Ben ritrovati a tutti, sono Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. Dopo la prima neve caduta nella giornata di mercoledì 8 dicembre in pianura al nord-ovest, nelle prossime ore toccherà alla pianura dell'Emilia. Nevicherà tra Piacenza, Parma, poi Reggio Emilia e potrebbe fioccare fino a Modena e a tratti fin su Bologna, quote di bassa colline a Romagna. Infatti la giornata di sabato inizierà con addensamenti ancora presenti sulla Romagna dove nevicherà fino a quote collinari, mentre sul resto del nord Italia tornerà a splendere un bellissimo sole. A centro-sud altra storia, perturbazione in transito con cieli grigi all'esclusione della Toscana dove migliorerà rapidamente la situazione, precipitazioni diffuse sul versante adriatico dalla Romagna alla Puglia, nevicate in appennino a tratti anche consistenti tra Marche, Abruzzo e Molise, a tratti anche sotto i 5-700 metri di quota. Precipitazioni che poi raggiungeranno l'estremo sud, in particolare Puglia, poi Calabria e anche Sicilia con rovesci a tratti anche a carattere temporale, nevicate sull'apennino meridionale intorno ai 1000-1200 metri di quota. Tra la serata e la notte precipitazioni che insisteranno sul versante adriatico centro-meridionale con nevicate anche sotto i 5-800 metri di quota. Ventilazione tesa per tutto il fine settimana da nord a tratti insistente e mari che tenderanno a risultare mossi o agitati a largo. Giornata di domenica che vedrai il ritorno del sole su tutto il nord Italia ma anche su buona parte del centro Italia. A risveglio ancora qualche attenzamento sull'apennino tra Abruzzo, Lazio e Molise con qualche ultimo fiocco di neve. Precipitazioni mattinata tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia che tenderanno a concentrarsi tra Calabria e Sicilia nel corso del pomeriggio. Sul resto della penisola un bellissimo sole con venti ancora da nord e mari mossi. Temperature minime che scenderanno ulteriormente, i valori minimi domenica sul centro-nord Italia, gelate a tratti intense e temperature massime che oscilleranno sabato e nella giornata di domenica tra 4 e 8 gradi al nord Italia con un leggero rialzo nella giornata di domenica mentre al centro-sud temperature in calo massime generalmente comprese tra 5 e 12 gradi con qualche grado in più sulle isole maggiori. Per maggiori dettagli consultate il sito metogiuliaci.it da Andrea Raggini, buon proseguimento.